Se il video ti è piaciuto metti like e se sei nuovo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella delle notifiche e lasciaci un commento qua sotto buona visione beh avete voluto voi ciao ragazzi si sono messe loro così eh perché visto che sono neomamme vogliono aiutarsi si aiutano a vicenda sono 5 cuccioli 3 di Feli e anche questi 2 di Cora quelli di Feli sono nati il 22 maggio e il 24 quelli di Cora e abbiamo anche filmato tu vai Cora spingi brava così farei 3 maschi e 2 femmine lei e lei sono femmine e loro 3 sono i maschi poi c'è questi sono i Feli lui ha una macchietta sul petto ma è nero lui è bianco e grigio poi magari e questa è grigia perlata e poi a dormire presenteremo i suoi cuccioli lui è come la mamma più o meno solo che più arancione ma c'è la ieri nera e abbiamo cominciato a dare dei nomi a prossimo ripresi un laterale Ciao